Sul tema della sicurezza, il Partito Democratico, anche grazie, soprattutto grazie all'azione del Ministro dell'Interno, non soltanto ha le carte in regola, ma è il partito che ha sbloccato i rinnovi dei contratti per le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, penitenziaria, finanzieri, esercito. Quelli in camicia verde che ci fanno la morale sono quelli che hanno bloccato i contratti per anni. Gli ha sbloccati questo signore e gli aveva sbloccati anche a livello di denaro la finanziaria precedente. Il miliardo l'hai messo tu, era degli italiani, mettiamola così. Secondo punto, noi dobbiamo dire che c'è certezza della pena, camminando nel collegio, la cosa che mi viene detta è che sì, è vero, c'è un problema, siete stati bravi sui grandi eventi, G7 e compagnia bella, però poi a me hanno portato via gli orecchini, hanno portato via la catenina, questo è un elemento molto importante, garantire la certezza della pena che se ti becco non esci dopo 24 ore, non esci dopo 48 ore, perché poi li prendiamo e peraltro nell'ultimo periodo 37 milioni di euro di nuove videocamere, nel nostro programma al punto 22 segniamo il desiderio di metterne altre 50 mila. Terzo e ultimo punto, voglio dire agli italiani, non credete però chi vi prende in giro e che vi dice che il problema è il colore della pelle, perché Pamela, che aveva 18 anni, un anno più di mio figlio, è morta nel modo più straziante e tragico e noi siamo con i brividi a parlare. Ma Jessica è morta due giorni dopo ed è morta nello stesso modo, a me non interessa se sia stato un nigeriano o un tranviere milanese, a me interessa che quello che è stato, chiunque sia stato, venga preso, messo in carcere e per quello che mi riguarda lasciato lì fino all'ultimo giorno. Questa è la vera sicurezza. Grazie a tutti.